Se mi dovessi chiedere di pensare ai mostri e ai personaggi più spaventosi, cosa mi viene in mente? Robin! Eh, oddio santo, ragazzi Bingo! Va bene, ok Un sacco di mostri, infatti oggi io e i miei amici Guardali qua, guardali, guardali qua Non rischiare, vai, vai Non rischiare, cavo Mamma mia, ragazzi Ci posso sparare? No, no, siamo tutti belle Scusa Non ci lascio credere Oggi io e questi qua giocheremo a nascondino su Gary's Mod contro i mostri Una volta a turno, uno di noi diventerà il mostro della partita E dovrà trovare gli altri che si nascondono Ma perché avete problemi di rap? Va bene Facciamo una cosa, giriamo la ruota prima che qua esplode tutto Vai, vai, vai Perché è così? Va bene, Lore, va bene Guardati quanto sei bello Aiuto Io sono io dalla mia più alta gioventù ti dico muoviti Ok, mi muovo Ragazzi, siamo pronti Giriamo la prima ruota Chi sarà il primo mostro? Io spero Spero io sinceramente, ragazzi Gira la ruota Vai, vai Ragazzi, è uscito Jenny Jenny sarà il primo mostro Che dobbiamo nasconderci da lei, ragazzi Se no Ragazzi, gli dobbiamo dare 100 euro Ho deciso adesso Quindi è stata attenzione Allora, ragazzi Jenny è ufficialmente diventata Pony E lei adesso Ma non mi arrabbiamo Oddio L'ho ucciso È cattissima, ragazzi Allora, hai due minuti per contare E noi ci nascondiamo Pronti? Ragazzi, corriamo Via, 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 via Ragazzi, non so dove mettermi Ok, sapete cosa? Ho un'idea Io ho trovato il posto ideale Davvero? Sì Trovate il posto ideale? Io mi metto qua 5, 4, oh Io sono pronta, ragazzi Dove siete, raga, raga? Io mi sono nascosto in un bel posto Tipo? Nel gabinetto Io non ve lo dico Non so dove Siete pronti? Oddio, sì La vedo, la vedo Cosa sta facendo? Si sta picchiando con una parete C'è una settata di sangue Ma cosa vuoi fare? Ma proprio che hai sete? Oddio Sì, proprio sete di sangue Di Lorenzist Ma io sono, io c'ho il sangue azzurro Ma che sangue azzurro? Il sangue dello Smurf Cat Ma poi le siamo Aiuto, aspetta, aspetta Ah, allora State dicendo tutti, oddio Io sono qui Significa che qualcuno si stava scatendo qua Cos'è stai facendo? Oh no, ti sento Oh no, oh no, oh no L'ha visto? Ha visto Lorenzist Ah no, sta mettendo Dove sei? No, ho fatto cadere delle cose Ho fatto domino Aspetta, aspetta Hai fatto cadere delle cose Oh, oh, chi è quella signora lì? Con i capelli rossi? Chi è? Ah, mi sono bloccata Ah, no, no, no Vantaggio a te Vieni qui Vieni qui Non mi puoi colpire Non mi puoi colpire C'è, c'è, c'è Sì, sì Nell'angolo Nell'angolo lì c'è Xiao Non è vero Ti prego Non è vero Oh ragazzi l'ho seminata Vabbè Silenzio, silenzio Non è vero Non ci sono Oh ma queste scatole Non riesco a saltare Vai, ma ci è bello Xiao Non mi vedrai mai Io sono meglio di una scatola Oddio È morto Ma chi è? È andato Uno è un altro Oddio Oddio Perché sta lanciando Le bombe Qualcuno ha lanciato una bomba Significa che devo andare lì Lore ma ti stai facendo spottare Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ti auto sei fuori in gioco Cosa fai? No no Lui è il mio assistente Lui è il mio assistente Vieni 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 Ma chi l'ha deciso? Sei un traditore incredibile Ma tu hai detto vero Non è vero L'ho fatto per il gioco Non lo scoprirai mai dove sono No veramente Io stupida Sta buttando le bombe Non lo vedo Ma si faccio? No guarda Guarda quello lì Quello infame che si avvicina Oddio Oddio No 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 Ti prego Ti prego Mancano dei minuti Senta dei minuti Questa non ci prende No ti prego No Mi prego Mi prego No no Mi prego Mi prego No no Ero ragata fra cui Hai ucciso Ottosimile Mannaggia a te Manca solo l'amore Gli diamo un minuto da adesso Sta facendo Ma no Oh eccolo Dov'è? Dov'è? Il vecchio è tutto decrepito Lui non si trova mai Guarda io corro Guarda 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 Non ce l'hai Hai 10 secondi 13 29 Oh Ti sento 26 Vabbè Guarda è qua Guarda che ripresepiche Che sto facendo Guarda 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 Ma ragazzi Ma fammi non riesco a prendere il vecchio Non ci credo Che cosa Ti è ammazzato No no Ha vinto Ragazzi Ha vinto Mi ha ucciso Ha vinto Ragazzi Non si poteva ammazzare il mostro Però diamo la prima punta Al vecchio della pa Io non ho parole ragazzi Complimenti Lorezist Grazie grazie Un po' troppo ballerino Come guardalo Guardalo è un distruttore incredibile Guardalo che Cosa stai facendo Mi faccio esplodere Non ci faccio No Tutto a fuoco è andato Secondo round È uscito Lorezist Siete pronti ragazzi E Lorezist Sarà esattamente questo mostro Oddio Lorezist Sarà Nutnut A due minuti Oddio Non sparagli Non sparagli Oddio Nascondetevi Avete due minuti da adesso Ok ok Oddio Io mi nascondo No tu devi cercarci Lorezist Aspetta ma doveva Nascondito Quindi fammi conterei Fino a 10 No 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 Sai che non era brutta idea No tranquillo Tu tranquillo Fai come Ok controlla 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 Ah dici Ragazzi mi siete nascosti 1 Allora io penso di sì 10 Ma non si conta così Lorez Così si conta No va bene Senti xia In caso dovesse venire qua Mi raccomando Tu vai per primo Io Mi sento Mi sento Mi sento Mi sento Mi sento Mi sento No non è vero Ci sta prendendo in giro Aiuta È tipo satana Dov'è 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 No no Ambraccio No no L'ho preso No no Ha ammazzato qualcuno Oddio Ha ammazzato qualcuno Sì È la cosa più terribile del mondo Ragazzi Ma che ti ha fatto cadere un aero in testa Ma sei tu che hai sparato Senza proprio Di dita Senza ritegno proprio Guardano 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 è cattivissimo Siamo a scritto Ho paura Ho paura Ammi paura Ammi paura Oh ci ho sentito A me Questo sente tutto Oh mio dio Ai deboli che mi parlano nell'orecchio C'è i miei miei che mi parlano nell'orecchio Fanno popo Popo Poi la pingu Vabbè Non era proprio così Ragazzi dove siete finiti Ma questo posto è gigante Io ormai Allora io ho trovato stanze segrete Vi giuro Vabbè comunque l'ore Hai praticamente solo due minuti per trovarci Ma non li trovo Queste perché non sono tutti uguali Ma il gioco è questo Sei nelle back rooms È il posto più difficile Mi dispiace Devo sentire l'umore Ma come ha fatto a farti scovare Roby Non lo so Aspetta Un attimo che ricarico Ehi No Aspetta Oddio Sette esplosioni Dove sei sparita Oh mio Dio Mi trovano Mi trovano Mi trovano Io sto disseminando tutte le back rooms di Mina Ma come fa Qua è esploso Io sto seguendo una scia Ragazzi di esplosioni Ti sento Ti sento Ma vedi che io Guardalo Guardalo Infame che non sei altro Io ho trovato a chiave Io sono dalla tua parte No no Cosa Roby È stato un jumpscare torribile Niente rimane solo a chiave Non ce l'avevo dietro Eh senti era vicino a delle esplosioni Manca solo un minuto Io tipo per l'ora Insisto dopo quello che mi ha fatto a chiave Certo che lo trovo Vai vai Certo che lo trovo Vai vai Ti aiuto pure io a cercarlo Dov'è Oddio ma ci sono un sacco di passati segreti ragazzi Eccolo Eccolo Si sta avvicinando Xiamo lo senti il suo grido da battaglia Il suo urlo Lo senti Vediamo Vediamo se ti faccio spaventare Non lo troverò mai Le back rooms sono troppo grandi Ma no ma in realtà se giri un bel po' Riesci Io sto trovando delle scritte Crepiti Vabbè ragazzi Secondo me è vicino Lo gusta come il radar Il suono Sono io Sono io Sono io Sono io Va bene Sono io Scusami Non volevo Hai 30 secondi da adesso Bingo Basta mi sono staccata Allora 28 7 6 Siamo dove sei Cagasotto Mamma mia L'ho attaccato L'ho attaccato con le parole Lo sta spedando Lo sta spedando La cosa divertente lo sai Qual è che io non mi sono mai fermato Io sto continuando a correre Ma non mi trovo Anche io ci ho provato Ma È troppo forte il pinguino Corre alle gambe molto lunghe Ok mancano 20 secondi 19 18 16 Lo troverò 16 15 14 Dai Lore Dai dai che lo trovo 11 Ce la posso fare 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ha vinto Xiao Guardalo Eccolo L'ho trovato Fermo 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 Complimenti al vincitore ragazzi Perfetto Cambiamo mappa Terzo round Cerco Io Siete pronti Allora che Che animatronico volete che divento Cioè ce ne sono tantissime Foxy 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 Chica Foxy Ma se io divento Freddy Che sono un orso polare Scusatemi Ma non ha più senso Allora Scusami Vabbè Perché era goliardico Mi ammazzate così posso iniziare a cercare Certo Ma Avete ammazzato Ho sbagliato Avete ammazzato Jenny Vabbè ragazzi Ok Sono appena diventata Freddy Vi do esattamente Due minuti da adesso Later Pronti o no Arrivo Allora ragazzi Di solito Freddy non c'era Oh no Ragazzi scusate Ma che Ma cosa Vabbè uno è eliminato Andiamo avanti Dove Dove Vediamo un attimo Dove siete ragazzi Mi siete infilati da qualche parte qua dietro No Ok Secondo me siete Nell'employer solid Non lo dico perché ci sono 500 colpi di pistola sopra Ragazzi dove siete Posso dire Spendere la luce No Ragazzi che ho spento le luce No Perfetto Adesso cerco meglio Dove siete Dove siete Non vedo niente Ok Vediamo se trovo qualcuno Secondo me nel bagno Ragazzi Guarda Guarda Secondo me qua In qualche bagno qui siete Oddio Perché non si apre Oddio Si apre Che sta succedendo Perfetto Ecco perché non si apreva Ecco perché non si apreva Oh perché non riesco a aprire Almeno questa Ok a posto Uno tolto Dove sei Dove ti trovo Perché c'è un piguino Ma Iliminato Ne manca solo uno Dove hai detto all'inizio No 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 Mori 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 Nei bani Ce l'ho fatta Ragazzi Ma è stato troppo facile Ma fate schifo Ma stia avvantaggiata Tanto ci si inchiude Perché sei Foxy adesso Io Eh Perché si Adesso tocca a Xiao Ok guardate chi è Guardate chi è Non mi dipicchi adesso No 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 Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ti abbraccio No 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 Non abbracciarlo Ok Allora abbiamo Esattamente due minuti Tu devi contare Noi ci nascondiamo Vai vecchio corri Io mi sono nascosta Oppure Vorrei cercare Va bene Ma è domanda Se vi trovo Vi posso tirare un missile in faccia Ma guarda anche tu Meno E direi di no Ah dici di no Troppo Robi secondo me Sarai la prima che troverò Anche perché sei Gialla Oh L'ore Tengiti da qui Ok Ok Ah Bene Grazie Siete praticamente Nascosti insieme Ottimo Così faccio No Ma io Voglio morire Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Dove sei Vieni Maledetto No no Babà Babà Vieni qua Vieni qua Vieni qua Anche abbracci Abbracciami No no Che ti devo abbracciare Mettere via Oh Mi ha chiuso la porta in faccia Perfetto Bravo Valore Non ci credo Non ci posso credere Non ci posso credere Maledetto Hai due minuti da adesso Come due minuti da adesso Scusami Sì sì Ma da quando Hai 30 secondi Ora siamo Sì Vabbè Dai Uno Eccoti qua Eh no Stavo stato trovato E adesso muori E adesso muori Non muoio 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 Scusami Visto che prima Lei mi ha tradito Mi potresti dire Dov'è No 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 Allora Allora Tipo sopra I soppalchi Dei palchi Che escono Nei palchi Ma cosa sono i soppalchi Cosa canti Le filastrocche Ma poi come è possibile Stava per minuscola Non la trovo A quel coniglio giallo Non ci posso credere Quello che è successo Perché Mignonne Sto vicino Grazie per avervelo detto Ma cosa ci fai Tu di nuovo qua Allora Scusami No Niente Ti aiuto No Non mi stai Tu mi stai palesemente Distraendo Per far scappare Quello Per l'aspetto Oh Non mi scappa Non mi scappa Perché ha schiacciato No Manca sono Radito dei conigli Manca sono Genni ragazzi Ma cosa sta succedendo Non lo so Manca un minuto Te lo sento Io lo sento Come mi senti Ah ok Dio Ma io sono I Non puoi spalarti Ti sta distraendo Vai spariamogli Invece Distraiamolo Però non è giusta Questa cosa Ti aspetto Che gli butta Le granate Così almeno La smettono La fisica Di questo gioco Mi piace Ma dove Caspita E Jenny Scusatemi Ma se provo a cercarle in mare No Muoio Forse muoio Mi conviene Forse è in mare Lo sai Per ha detto no No Io Sono caduto Per sbaglio Beh abbiamo Una vincitrice Jenny vince L'ultimo round Ragazzi siamo stati tutti In breve Abbiamo vinto un round A testa Un applauso Grazie Ragazzi vi raccomando Se guardate un altro video Di che rispondo Vi raccomando Ditecelo nei commenti Diteci quali altri Mostri dobbiamo essere Ci vediamo Nel prossimo video Ciao